Paradise, questi sono i Coldplay, allora alle 11.20 abbiamo il piacere di farvi una bella sorpresa per davvero abbiamo il piacere di dargli buongiorno alla signorina Claudia Lagona buongiorno Claudia, facciamo un po' gli originali, Levante via buona giornata ciao Levante, ben ritrovati qui a Radio Bruno cara Levante, dove ti trovi materialmente e come stai trascorrendo queste giornate rigorosamente a casa? allora, rigorosamente a casa nella mia casa torinese io ormai dal primo decreto mi sono ritrovata in questa casa perché ero tornata a Torino con il desiderio di scrivere quindi di stare un po' da sola, evidentemente l'universo mi ha sentito bene e sono sola da tantissimi giorni quindi un vero e proprio isolamento che però si sta rivelando, sebbene il momento per il nostro paese e per il mondo sia un po' critico abbastanza proiettivo, nel senso che io qui a casa mi devo da fare scrivendo, suonando o anche insomma ogni tanto ho aiutato un po' i fan con qualche versione acustica dei brani che ho scritto bello essere un tuo vicino di casa adesso, molto bello io ragazzi me lo sono chiesto, non so se mi fa piacere loro perché comunque io faccio un casino pazzesco ma io sarei contenta però perché di qualità sì ma anch'io, anch'io perché in questo caso non saresti uno che strimpella o che butta delle note così a cacchio e che quindi diventa un disturbatore più che altro ma è tanta roba bella li predica, senti senti ma cos'è sta roba qua, cos'è, è un disco, cos'è che sta andando ah no è uno che suona beh loro mi conoscono bene, i miei vicini di casa sono molto carini per cui si aspettano che ogni tanto parta qualche nota di piano e qualche vocalizzo però effettivamente in questo periodo molto di più anche perché come sapete le nostre vite sono molto femotiche e io non sono quasi male a casa perché giro tanto, sono in tour in promozione ecco, tranne quando devo scrivere però non mi sentono mai fare così tanto così invece in questo periodo è così però evidentemente ci teniamo compagnia in più mentre parlo con voi sto sferruzzando perché ho deciso di lavorare a maglia, di riprendere questa mia grande passione no e quindi sto facendo l'uncinetto? sto facendo no 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 è proprio maglia, i ferri i ferri i ferri bella di zio e cosa stai realizzando esattamente? sto facendo un regalino per un nascituro che arriverà in luglio però insomma sto facendo una copertina molto carina e la figlia di un'amica e dunque ho detto vabbè sai che c'è questo tempo lo inganno anche in questo modo devo dire che almeno dal mio canto non mi annoio davvero perché ho tante cose da fare più comunque io per il lavoro che faccio necessito di silenzio e di solitudine per cui diciamo che sto facendo combaciare questo periodo di quarantena con la parte più produttiva di me e allo stesso tempo questa forza di isolamento forzato a volte non allevola la creatività perché sì l'artista ricorre alla fantasia e all'immaginazione ma spesso per raccontare i sentimenti e le emozioni abbiamo bisogno di vita e quindi a volte è come se avessi una porta di freno però dai non mi lamento va tutto bene stiamo bene a casa sono bene quindi il mio pensiero in realtà vale per le persone che in questo momento stanno vivendo delle situazioni veramente un po' più tragiche hai ragione Levante grazie grazie di cuore per essere stata con noi e speriamo finisca tutto aspetta perché prima di salutarla le vogliamo fare dei complimentoni ma proprio con tutto il cuore perché comunque insomma il successo della tua canzone merita una sottolineatura è stata la canzone più suonata dalle radio italiane giusto giusto l'ascolto a settimana quindi a distanza di un mese abbondante a questo punto dal festival di Sanremo e si dimostra essere una delle canzoni più gradite in assoluto dal pubblico e questo era giusto ricordarlo complimenti davvero grazie 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 Levante a presto dal vivo ciao e a presto grazie mille grazie mille per averci dedicato qualche minuto beh insomma l'abbiamo celebrata Clare questa canzone è il caso di riascoltarla ciao tu animale stanco sei rimasto da solo